Buongiorno, Marco Mazzucchi di Ardea, Marco Mazzucchi di Ardea Stadio Comunale, tutto e pronto per la disputa della quarta giornata del campionato di Serie D, Girone G sul terreno di gioco, i sardi del Carbonia sulla sinistra, in completo blu, sulla destra maglia verde e pantaloncini bianchi, i padroni di casa della nuova Florida. Le formazioni sul terreno di gioco sono le seguenti, sardi del Carbonia in campo con Carboni, Russo e Friedrich, Serra, Cestaro, Bagaglini, Giucci, Piredda, Stivaletta, Bigotti, Cannas, a disposizione del tecnico Mariotti, un tecnico che conosciamo bene perché è un originario diciamo del Lazio, Palombi, Berman, Odianos, Pischetta, Mastino, Isaia e Sumare. La nuova Florida, Schiera, Giordani, De Marchi, Siscardola, Porfiri, Jacoponi, Toxic, Tamburlani, Gambioli, Chavez, Capparella, De Costanzo, l'allenatore il signor Bussone, a disposizione Aniello, Moretti, Miola, Pallocca, Scogna, Miglio, Stefani, Contini, Magri e Gargiulo. Il direttore di gara è il signor Gabriele Totaro di Lecce con la collaborazione degli assistenti, Riccardo Persichini da Macerata e Justin Dervisci da San Benedetto del Tronto. Lancio sulla sinistra ancora per Gambioli, che si coordina e va a fiondare un pallone che termina sul fondo. Ottimo! Questo pallone conquistato da Cannas, Cannas che avanza e poi va a cercare una conclusione dai 25 metri che termina sul fondo, ma è pregevole questa azione. Si ripensa, ma su richiesta, su richiesta, su richiesta, su richiesta, non c'è segreto. Giusti pronto alla battuta, la ricorda, la parte di Giusti, tutto pronto, parte Giusti, giusti, giro, è giusto, grazie, è giusto così. Ancora Jacoponi, Jacoponi, si libera Jacoponi ancora e poi di piatto destro va a colpire la base esterna del paro, ancora adesso Toschiccio che va a cercare il tiro a giro con palla che non prende l'effetto giusto e termina sul fondo. Rosso, Cannas, e c'è il gol, guarda come il paventra, è preciso, era fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco, e c'è il gol del Carbonia. Con questo pallone scaraventato da Pallocca in avanti. Un direttore di gara che comanda il calcio di punizione da fuori area, anche se ci sono la mentele che forse era dentro l'area di rigore e cercheremo di rivedere il rale di quest'azione. Parte adesso il calcio di punizione, bellissimo, ma c'è. Ma c'è il gol che viene annullato, ha munito anche il numero 21, Chavez. Riparte ancora la squadra di Mariotti, Cannas vince il rimpallone. Ancora Cannas, fiondata, respinta con i piedi da Giordani. Aria respinto di testa da Porfiri. E c'è questa conclusione verso Giordani che viene bloccata a terra. Tamburlani, Dungo, Scardola, Jacoponi. Parte il tiro di Scardola, ha dato l'illusione del gol, ma la palla è terminata sul fondo. De Marchis, reggevole questa iniziativa di De Marchis, che acconda, va in area e guadagna il calcio di rigore. Calcio di rigore per la nuova Florida. Calcio di riguarda una prepotente azione di De Marchis, che è andato di forza a conquistare questo pallone, e Chavez che parte, tiro. Ma reggevole la nuova Florida. Mastino. Pischedda, ancora Mastino, che va a scaraventare questo tiro che termina sul fondo. parte la parabola, e c'è il colpo di testa, comparatissima. C'è ancora un calcio d'angolo, ma si vede tra di gara, che in questo istante fiscale la fine, Max. Qui al marco Amazzucchi termina il match 1-1.